andiamo anche col primo covo della banda signori che si trova qua e ti danno anche un punto abilità e non so cosa bisogna fare nel in questi casi però noi ci avventuriamo e vediamo di sbrigliare la situazione sbrogliare la situazione ma basta sti contratti online basta cosa dovevamo fare i criminali se la prendono con i si levantano come se avessero fatto chissà cosa vediamo se dopo la lezione che gli darò avrà ancora tanta voglia di fare lo sbruffone salto 220 allora piove senti come piove guarda come piove senti come viene giù va bene adri profilalo atterralo non ammazzarlo non ammazzarlo mi raccomando non ammazzare non fare come samabilladen c'è ogni tanto è utile ma adesso no il punto è che mi serve una telecamera e se vado lì la telecamera e la becco per forza se faccio così che è silenziata a posto potevo anche atterrarlo da qua e volendo però vabbè a lui bersaglio bersaglio ok lo segni vero si me lo segni allora facciamo le cose con un po' di raziocinio tipo una cosa come l'arco sarebbe utilissima ma questo è troppo lontano devo attirarlo lì per forza come cazzo faccio provate delle armi riprovaci attira eh? laggiù cosa? Gesù ehi non posso non posso farcela è lui merda è andato già si rompe di continuo niente di nuovo forza non tornate senza averlo preso merda troviamolo preso scappo 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 va bene così scappo se però devi scappo via via che poi non avevo fatto mica male solo che non andava ucciso tranquillo metto via l'arma che non so come si metta via l'arma però ok mi mi sta macchina gialla va minchia tanta roba seguitemi 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 ma ma aspetto anzi vi aspetto storie sindacali durata più di quanto pensassi ma è stata molto divertente punto abilità due punti abilità abbiamo dove li possiamo spendere? allora nel combattimento concentrazione e velocità cambio d'armi a posto ah abbiamo un altro a posto un cazzo allora via subito quanti sono i contratti della banda giusto per sapere? 15 sti cazzi bel po' eh mi dispiace solo per questo bel macchinozzo che se ne andrà sapete dove eccoci arrivati ma piove sempre eh che palle questo strozzo gode a picchiare le donne vediamo se si diverte quando lo picchio io eeeh maschio alfa piano piano chi va sano va lontano si ma ci va molto lento quello è il problema vanno profilati ben due bersagli questa volta tipo al quindicesimo covo della banda sanno 15 bersagli solo che si cioè me lo devi di prima me lo devi di prima cioè se io dopo 15 secondi che lo sto appuntando questo non mi ha ancora detto niente e io lo faccio esplodere capito? cioè non ci sto a pensare su due volte lo due non sono lo due non sono lui non è uno è lui non è niente hanno sbagliato numero non è niente se qua col cecchino è abbastanza inquietante eh tornasse qua lo farei saltare in aria capito? this is the problem dai fammi far saltare in aria il cecchino dai vai 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 bene godo uccisione cecchino buono così ehi ma chi è? uno dei nostri è a terra anche perché c'è più ladrino possiamo andare quindi cioè sono quelli per forza poi non ho anche idea di come salire o forse sì sì ce l'ho dove è la pistola silenziata? eccola qua non abbassate la guardia pesa può essere lui l'endo potrebbe anche però non lo sapremo mai scavalca stiamo pronti stiamo pronti preso non abbassate la guardia santa maria no no devi ripararti giù uno dei nostri è andato ops preso ho una infinità di colpi per questa pistola devo andare qua non abbassate la guardia fare il giro neutralizzato perfetto adesso manca l'altro lo sto facendo benissimo eh oh il punto abilità ha speso benissimo io non posso spostarmi su sto versante senza che nessuno mi caghi le palle oh che bello scavalca forza ah ti vengo a prendere io ho capito stiamo uff attenzione allora è l'altro giù per forza perché no cioè non ha senso allora c'è raga sto punto non ha senso cioè è quello su per forza tu pista sei tu in guardia a posto bellissimo in guardia in guardia bene raga ne rimane solo uno per forza no no bah ah io per sicurezza lo vado ad atterrare così qualsiasi cosa abbiamo il culo coperto è rimasto solo stiamo pronti stiamo pronti appunto era lui era lui perfetto 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 ragazzi ha un'arma presto non avevo capito subito cos'era non voglio spero che troverai quello che c'è ma anche la polizia ci mancava 53 per cento sti cazzi queste cose delle bande sono bellissime ragazzi sono fantastiche poi con la pistola silenziata tutto più semplice bellissimo altro covo della banda signori sarà il terzo su quindici mi è salato fuori adesso beh riuscissi a farli tutti non sarebbe mica male ragazzi io vedo la reputazione che comunque c'è sta lì ora è coperta dalla facecam quindi voi non la vedete ma comunque c'è una reputazione che tipo vacilla non cresce non diminuisce sta lì e tanto diminuisce perché uccido qualcuno che non dovrei uccidere però c'è sta lì proprio nel mezzo anyways covo della banda la banda della magliana avvia andrò a trovare questo tizio ma dovrebbe accettarti non lo so c'è fai te che classe palestra ogni giorno ah ok direi che questo può essere una buona cosa da usare tac primo bersaglio fuori poi può chiamare rinforzi ma non li chiama più a posto se dovessi rimettere rinforzi ecco avete capito la c'è una telecamera giusto si non è bersaglio al morbo di parkinson esplosione si si ah cazzo grazie 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 merda stai attento forse è troppo lontano lui laggiù purtroppo non ha a lungo raggio quest'arma qua preso 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 poi bersaglio è lui ok attenzione bersaglio è lui fuori quindi è l'ultimo che va fatto fuori stai attento no perché c'è la valvola merda no non è niente è in guardia c'era un cazzo ora guardo qui ci attaccano colpo alla testa stai attento buono e adesso lo prendiamo tranquillamente non vedo niente non c'è niente via merda non è più da solo eh dove vai bersaglio dove vai dove vai ehi stanno sparando dite alla polizia di muovere il culo e di venire dove c'è bisogno come lo cazzo lo neutralizzo cioè come cazzo lo fermo come cazzo lo catturo ero così tanto da prenderlo ragazzi addio il mondo ci sarà eh ma come può viaggiare più veloce di me lui preso fan culo neutralizzato il veicolo ho risolto il problema due stelle di sospetto su cinque ok abituato a gta questo è un gioco dai ragazzi su per le scale via toglietevi dal cazzo tutti quanti e poi ha una frenata molto molto problematica sta macchina qua ed anyways parcheggio vietato completato punto di abilità in più che ci permette di sbloccare cosa perfetto perfetto più denaro quando si hackerà a posto aspetta ma c'ho anche qualche punto in più o ho visto male ho due punti aspetta 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 un punto qui e gli altri e poi più avanti . Grazie per la visione!